E questa è la moglie di sera, è illuminata, la luna, il sole, il remonto del sole è fatto? Eh sì, è girato. 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 È girato. Tutto panoramico. Sì. Sì, è girato. Sì, è girato. Sì, è girato. Sì, è girato. Guarda, 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 guarda. Ti prendi freddo poi con la moto, sei con la moto. Guarda che meraviglia. guarda che è girato. Guarda che cosa è girato. Guarda che è girato. e questo è il babbo natale finisce a cuocere bellissimo